Allora, per prima cosa, la prima ora, vogliamo far capire bene la differenza tra convergenza virtuale e convergenza uniforme, perché poi ci serve pure per altre cose, e vogliamo far capire che tutta una serie di proprietà di cui possono godere le funzioni f con n, se abbiamo convergenza puntuale si possono perdere, se noi abbiamo una convergenza uniforme, si può ok? Allora, facciamo degli esempi per prima cosa, prendiamo per esempio f di x una, vabbè, prendiamo per esempio 1 su radice di 2 pi greco e alla meno squadra mezza, questa è una probabilità, almeno quelli che gli informati hanno questa probabilità. Questa è una funzione positiva, l'integrale di questa funzione fa 1. Ok? Allora, andiamo a prendere la seguente funzione f nx uguale E alla meno n quadrux quadru mesi n su radice di 2 pi greco e vediamo un po' quanto fa l'integrale per esempio vabbè, cominciamo a fare l'integrale tra meno infinito e infinito di f con nx questo è uguale a n su radica più pi greco integrale a meno infinito e più infinito di r meno n uguale a x quadro mx di x pongo nx uguale a y allora n di x è uguale a dy quindi questo qua è uguale a 1 su radica più pi greco integrale a meno infinito e più infinito e alla meno di y quadro mx di y questo sapete poi lo dimostriamo in analisi però sapete già che fa quanto fa? 1 quindi tutte queste funzioni o se facessi l'integrale tra meno 1 e 1 di f con n di x quindi x a che cosa aggiungeremo? aggiungerei all'integrale tra meno n ed n di r meno y quadro mezzi in direzione e quando n tende ad infinito comunque tende a 1 per qual motivo? questa funzione integrava in senso generalizzato e quando n è del infinito questo tende ad integrare tra meno infinito e infinito quindi sarebbe la stessa cosa questi non sarebbero sempre uguali a 1 nel caso se n è uguale a 1 sarebbe uguale circa 0,68 se vi ricordate tra una sigma la probabilità all'interno di una sigma dalla media è circa 0,60 però poi quando n aumenta come sono fatte queste funzioni f con n? io ho preso questa funzione di partenza la f ma ne potrei prendere anche un altro proprio da un altro esempio come sono fatte queste funzioni f con n? vengono quando n tende ad infinito vengono schiacciate e alzate in maniera tale da mantenere l'area costante ora vi ricordo f con n di x uguale n più radica 2 di greco e almeno n quadro di quadro n facciamo vedere n a infinito che succede? qual è il limite di questa successione di funzioni? è una forma indeterminata sì però si scioglie subito questa forma indeterminata che tu qua che cosa hai? hai una costante tu non tu radica il 2 di greco poi c'hai n che va infinito però sotto c'hai qua posso scrivere diviso e alla n quadro x quadro allora se prendo e alla x quadro mesi lo chiamo a questo a se a è maggiore di 1 e n fratto a elevato alla n quadro cosa fa? n fratto a alla n tende a 0 n fratto a alla n quadro tende a 0 questo quando quando e alla x quadro mesi è maggiore di 1 ma quanto è che e alla x quadro mesi è maggiore di 1? quando x è diverso a 0 questo se x è diverso a 0 e se invece x è uguale a 0 e alla 0 fa 1 1 alla n quadro fa 1 n fratto 1 fa n n tende a più infinito quindi abbiamo che la funzione limite è fatta così vale 0 e qua c'è il limite che vale più infinito di un punto 0 però 0 è un punto solo no? la funzione limite va bene che non è limitata vale più infinito di un punto però se noi dovessimo dare un'integrale a questa funzione quando daremo? 0 quindi diciamo l'integrale di f con n di x di x tende a 1 che è diverso da integrale del limite quindi come vedete in questo caso il limite si dice non passi sotto i segni integrali vedremo poi invece che per la convergenza uniforme ma anche più in generale in altri casi il limite può passare sotto i segni integrali quindi può succedere pure dipendente tu vuoi vedere che tutte le funzioni f con n sono integrabili mentre il limite non è proprio integrato ok? questo è un primo passo questa cosa si poteva fare se io prendevo esercizio se prendevo questa funzione qua quant'è diciamo qua devo utilizzare per di greco perché l'integrale di questa funzione è così qua se voglio io le faccio se no non divido per qui credo se prendo questa funzione qua n f di nx rifate l'esercizio vabbè qua i dati cambiano però l'esercizio praticamente funziona esattamente allo stesso allo stesso modo f con n tende a 0 se x è diverso da 0 e a più infinito se x è uguale a 0 l'integrale di f con n fa sempre 1 l'integrale del limite fa 0 quindi poi abbiamo visto e questo è 1 quindi con la convergenza puntuale può succedere che le funzioni sono integrabili passo dal limite magari non sono mai più integrabili ma anche se fossero integrabili può succedere che il limite non lo posso portare sotto queste funzioni integrabili cioè prendo gli integrali faccio tutti gli integrali faccio il limite e quello che mi viene non è l'integrale del limite volete vedere ancora un esempio ancora peggio prendiamo questa successione di funzioni qua f colare di x uguale 1 fratto y per 1 più x qua scusate questa è f f colare di x scusate questa qua non è chiamiamola g perché f poi aveva il limite ho dato il nome f ha due cose diverse ha la funzione di partenza e poi ha la funzione n a s f colare di x chi è? per dimensione prendo 1 su y 1 più x meno n a qua quindi questa volta ho fatto una cosa diversa non ho fatto quello schema di prima cosa ho fatto? cosa ho fatto? si sposta no non è che si sposta sapete quali i grazi di questa funzione? si sposta ah si sposta quindi la prima è una funzione fatta così quando ci metto n il centro di simmetria passa a x uguale a vedete? qua quando x uguale a n mi viene il massimo quando x diciamo se io chiamo x meno n uguale a y se io questo come ne diventa la più giudizia allora che cosa succede? andiamo quanto vale l'integrale da meno infinito a più infinito di f con n di x di x se io la sposto la funzione integrale sembra uguale perché questo qua è uguale all'integrale tra meno infinito e più infinito di g di x di x questo è uguale a 1 su pi greco e la corangente di x ho dato tra più infinito e meno infinito e quindi pi greco mezzi meno o meno pi greco mezzi fa pi greco di x di x di x di x fa sempre di x quindi l'integrale vale sempre u io la sposto ma l'aria sotto la funzione rimane sempre la stessa chiaro? o a chi tende f con n ecco questo è q qui dai dai che buone Grazie a tutti Tende sempre a z Per qualunque x Tu fissa x Manda n a infinito Questa quantità a quanto va? x è limitato x meno n tende a meno infinito A quadrato tende a più infinito Più 1 per pi greco tende a più infinito Il recicluto tende a N che fa infinito Cioè praticamente che succede? Che tu quando ti metti in un punto Allora vedi qua la funzione F0 vale Questo valore qua Poi F1 sale, poi F2 sale, poi F3 sale Poi in un certo punto l'onda passa Poi riscende, riscende, riscende e tende A z Cioè la convergenza puntuale significa ragionare A x fissato E E quindi Quindi l'integrale di f con... Adesso il limite addirittura è continuo Addirittura è c'infinito Ma gli integrali di f con n valgono sempre? L'integrale del limite vale? Zero Quindi ci passa il limite sotto il segno integrale? Cioè l'integrale del limite è uguale al limite degli integrali? No L'integrale del limite fa zero Il limite degli integrali fa zero Un altro esempio ancora Uno può dire Vabbè ma questo perché L'insieme era illimitato Praticamente voi avete un'area Perché l'integrale fa zero Perché quest'area se ne scappa all'infinito All'infinito Ok Altro esempio Andiamo a prendere questa funzione qua G di x Iguale X fratto 1 Più x4 Adesso prendo Adesso prendo Proviamo un po' Proviamo a mettere F Con n di x Uguale N quadro X Tratto 1 Più Non mi piace Andiamo a prendere Andiamo a prendere Facciamo x Prendere Per via la meno x Ok Prendiamo Questa qua La prendiamo Solo per x Appartenente a zero Cioè la successione Cioè la successione Andiamo a considerare Solo per zero Questa la prendiamo Per x Maggiore Questa 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 Andiamo a prendere N quadro N quadro X Per via la meno Nx Cioè Nf Di nx E questa La compresa Successione La consideriamo In zero Adesso Andiamo a vedere Che succede La funzione Di partenza Era Fatta così Se la studiate È facile Vedere Che è fatta così In zero Vale zero Perché c'è la x Sale per un po' Poi E alla meno x La faccia Scende da zero Non fate le derivate Trovate le derivate Ok Adesso Questa successione qua A chi converge In zero In realtà Per ogni x positivo A chi converge Come prima Ma voi ci avete N quadro Per x Fratto E alla x Alla n Allora Se x è maggiore Di zero Questo è N quadro Che è un polinomio Fratto un'esponenziale A alla n A è maggiore Di uno Quindi questo qua Tende a Zero Ma se x è uguale A zero Sotto vale uno Ma sopra vale zero Perché c'è la x Zero per n quadro È zero Quindi in ogni caso Tende a zero Però ogni x Maggiore o uguale a zero Quindi in particolare Anche in zero Come è fatta Come sono fatte queste funzioni Sono fatte In questo modo Adesso L'integrale di f con n Cosa fa? Quindi questa tende a zero L'integrale di f con n Tra zero e uno È uguale Integrate a zero e uno Di n quadro x E alla meno nx De x Allora Pongo nx uguale T Questo diventa L'integrale tra zero Ed n Di t Per e alla meno T Una n X Si mangia Una t Si mangia una n E l'altra t Che è la magia di x Che è n di x E questo tende All'integrale tra zero E più infinito Di t E alla meno t Che poi? Ma peggio ancora Peggio ancora Quindi Cosa ci ho guadagnato Rispetto a prima? Cioè L'esempio è ancora Peggio di prima Perché Se vi ricordate E lì La funzione Almeno in un punto Se andava a infinito In qualche modo Una traccia Del comportamento Strano C'era Invece Questa successione Di funzioni In tutti i punti Tende a zero Quindi tu Se guardi Sopra il limite Il limite è zero Pensi che Le aree Sotto Le f N sono tutte positive Le aree Sotto f N Sanno andranno a zero No No Perché le aree Sotto f N Se ne vanno a uno Peggio ancora Io posso Se ci metti Invece di n quadro Ci metto N cubo Che cambia? Il limite cambia? No Perché sotto L'esponenziale N quadro N cubo Se ne va a zero E invece qua Questo mi va a uno Ma qual è davanti? Va più finito Quindi addirittura Io posso avere Una successione Di funzioni Positive Le aree sotto Vanno a infinito E la successione Di funzioni Se faccio il limite Punto a Va a zero Questo perché? Dove se ne scappano Le aree? Se andate a vedere Come prima La funzione Quando la spostavo L'area Se ne scappava Da questa parte A infinito E stavolta Se ne scappa Invece che in orizzontale Se ne scappa in verticale Io Guardando il limite Non lo vedo Perché Quando schiaccio Il grafico Di una funzione Verso di qua A un certo punto Per ogni x La funzione Tende a zero Successione di funzioni Però Quindi Questo Questo fatto È un fatto importante Cioè La convergenza puntuale Non basta Ad assicurare Il passaggio Al limite Su più semplici Molto spesso Quasi sempre Il limite Di funzioni Integrabili È integrabile Ma L'integrale Del limite Può essere diverso Al limite Di integrale Chiaro? Ok Poi abbiamo visto Se vi ricordate Quell'altro esempio Lo richiamo brevemente Io prendo F con n di x Iguale Iguale Altotangente Di nx x in 0,1 Questa converge A Y mezzi 6 in x A meno 1 Che succede In questo caso Che tutte le funzioni Sono continue Il limite Anzi Tutte le funzioni Sono c Infiniti Il limite È disco Disco Quindi io Quando faccio Una convergenza puntuale Non posso In alcun modo Sapere Se il limite Mi viene Continuo Dici Ma se le funzioni Di partenza Sono continue E il limite Sarà continuo No In generale No Le funzioni Sono continue Il limite È disco Chiaro? Ok Andiamo a vedere Invece Che se la convergenza È uniforme Queste proprietà Ci sono Cominciamo a vedere Che è una Che ci serve Allora Conciameli Chiaremo Prendiamo Una successione F con N Contenute In C0 Di a B Sia Inoltre F con N Conmerge F O qua Ci mettete Sopra D Infinito Oppure Scrivete Uniforme M Potete scrivere Così Che significa Per ogni Epsilon Esiste un indice N Tale che F con N F con N Di X Meno F di X E minore di Epsilon Per ogni X di A Abbiamo scritto L'altro Mide il solo Epsilon Tale che F con N Di X Meno F di X E minore di Epsilon Per ogni Io qua sotto Per ogni X Perché si chiama Uniforme Perché N Dipende solo Da Epsilon Non dipende Da X E quindi È uniforme Rispetto a X Cioè Va bene Sempre lo stesso Invece Nella convergenza puntuale Cambia X Cambia N Fissi Epsilon Cambia X Cambia N Perciò Non è uniforme Perciò Questo si chiama Uniforme E quella no È chiaro Questo discorso È facile Qual è la tesi? F È Continua Come è F È Continua Come è F Allora Dimostrazione La faccio Comincio qua A fare la dimostrazione Così Salve una ride Forse c'entra Una No Sennò Le di dietro Sennò Non siamo con l'altra E' finito Allora Sia X con 0 Un punto Di ab Facciamo vedere Che F E' Continua Questo è tutto Quello che devo far vedere Uno dice Vabbè no no Ci stanno pure gli estremi Sugli estremi Il ragionamento Che vado a fare adesso Sarà ancora più facile Perché basta Prendere l'intorno Invece di prendere Tutte e due le parti Lo prendo solo da parte Qual è la differenza Se tutto è interno O se stiamo su un estremo E quando vado a fare l'intorno Qua magari Se lo prendo abbastanza piccolo L'intorno è tutto dentro Qua è mezzo dentro E mezzo dentro Però da ragionamento Come si recupera il ragionamento Capirete benissimo Che stare su un estremo Non inficia La validità Del ragionamento Il ragionamento va bene qua Chiara? Allora Cosa dico? Se faccio vedere Che F continua In sconze Siccome in sconze È un punto arbitrario Dentro O uno dei due estremi Che vuol dire Che la funzione Continua Da F La dimostrazione F Quindi Basta far vedere Ok? Allora Io cosa so? Sia Epsilon Maggiore di zero Allora io so Che esiste un delta Maggiore di zero Tale che Continuo qua Se x Menisco un zero È minore di delta Se stavamo su un estremo Cosa dovremmo dire? X meno x col zero Minore di delta X appartenente ad abito Io voglio solo La diffusione qui Perché Devo stare solo Per esempio Sull'estremo destro Devo stare solo a 6 Implica F di x Meno f di x con zero Minore di Epsilon Terzi Mettiamoci terzi Poi vediamo Chiaro? Lo posso fare? Certo Perché Faccio il grafico qui Questo è il limite F di x F Qua stiamo sull'intervallo Abili Allora La Scusate un attimo Sbagliato a dire Prima scrivere mi Esiste un mi Partenente a n Tale che Se n è maggiore di mi Maggiore o uguale di mi Allora Fn di x Meno f di x È minore di x Per ogni x di abito Questa è la definizione Di convergenza Uniforme Semplicemente Il ni Invece di Sceglierlo in base a Epsilon Ho scelto in base a Epsilon Terzi Giustamente Che f è continua Ancora non lo so Lo devo dimostrare Ok Mi sono impicciato Allora Adesso che devo fare? Adesso Sì posso dire Esiste inoltre Un delta Maggiore di 0 Tale che Se x Meno x Con 0 È minore di delta Allora Fn di x Meno f Ni Di x Con 0 È minore Come lui Di epsilon Perci Questo lo posso scrivere Perché io so Che f Ni Quella sia la funzione Continua Le funzioni f con n Erano tutte Continue Ok Bene Adesso Abbiamo quasi finito Ma anche una riga Per concludere il ragionamento Andiamo Andiamo E andiamo a fare F di x Meno f di x Con 0 Questo è uguale A f di x Meno f con i di x Più f con i di x Meno f con i di x Con 0 Più f con i di x Con 0 Meno f di x Con 0 Cioè Ho aggiunto e sottratto Questa quantità Ho aggiunto e sottratto Questa quantità Cioè Qua è Siamo a x con 0 Qua siamo a x Qua Questa è la f con n Questa è la f Sto prendendo Questa differenza qui Poi sto prendendo La differenza Di livello tra qui e qui E poi sto prendendo Quest'altra differenza Di livello di qui Sto prendendo Queste tre differenze Chiaro? Per la disuguaglianza triangolare Questo è Minore o uguale Di f con n F con x Meno f con i di x Più F con i di x Meno f con i di x Con 0 Più F con i di x Con 0 Meno f Con 0 Che io dico che è Minore Allora Questo è Minore di x Perchè Se N è maggiore o uguale Di n Qua c'è proprio n Quindi va bene In qualunque punto Io vado a considerare Questa differenza F con n Meno f È sempre Minore di x Quindi il primo pezzo È minore Di x E l'ultimo pezzo E l'ultimo pezzo È la stessa cosa Mi dice che in x F con i di x Minore di delta Allora F di x Meno f di x Minore di x Che è esattamente Quello che dovremmo Dimostrare Quindi la convergenza Uniforme Va perfettamente Bene Per conservare La continuità Se ci avete Una successione Di funzioni continue E converte uniformemente Su un intervallo L'abbiamo preso Di uso Ma se lo prendessimo A petto Va bene Quattro Il limite È ancora Una funzione Con Il limite uniforme Di funzioni Di continuo È continuo Chiaro? Funzioni sono continuo Passate al limite Il limite uniforme Il limite è continuo Funzioni sono continuo Passate al limite Il limite è puntuale Delle funzioni Forse sono continuo Forse no Dipende Non è che Siccome è puntuale Per forza Discontinuo Dipende Se il limite è uniforme Il limite È continuo Se è puntuale È chiaro Siccome è uniforme In vita punto A Se è puntuale Potrebbe anche essere uniforme Se è uniforme Sicuro che è continuo Se è puntuale Abbiamo visto per esempio Con le funzioni Con le funzioni che convergevano a zero Ma ci convergevano puntualmente Ma non uniformemente La funzione Nx N4x per e alla meno nx O nqx per e alla meno nx Quella convergevano a zero Ma non ci converge uniformemente Non ci converge uniformemente Perché il massimo di f con n Se era addirittura In fi In finito La distanza di f con n Da zero Se l'andate a considerare Va sicuramente a in fi In fi Quindi non è Ok Invece La convergenza uniforme Conserva la continuità Andiamo a vedere Se la convergenza uniforme Conserva L'integrabilità Secondo rino E se posso passare all'inizio Il segno di rino Abbiamo il seguente teorema Teorema Prendiamo una successione f con n Appartenente alle funzioni integrate Secondo Riemann Poi supponiamo Che f con n Commerca f Uniformemente Desi F E' integrale Secondo Riemann Su a b E inoltre L'integrale Tra a e b Di f con n Di x Di x Commette All'integrale Tra a e b Di f di x Di x Questo si chiama Teorema di passaggio al limite Sotto il segno integrale Perché vedete Il limite degli integrali E' uguale All'integrale del limite Non posso anche scrivere Limite L'integrale Uguale E' uguale E' integrale Passaggio al limite Sotto il segno di Inte O Sta roba In In fisica Probabilmente Già l'avete usato Chiaro? Solo che Quando l'ha usato in fisica Voi dici Vabbè Si passa al limite Sotto il segno integrale Perché vale E Femme un momento Vale Spesso In realtà Vale anche In casi più generali Cioè La convergenza uniforme E' ben sufficiente Perché valga In realtà vale molto meno Vale per esempio Una convergenza Si chiama dominare Però Ok Però Neanche vale sempre Abbiamo visto prima Di esempio In cui non male affatto Le funzioni Commergono a zero E gli integrali Vanno infiniti Chiaro? Quindi Alto un attimo Va tutto bene Se ci sono Le ipotesi giuste E questo Il professore di fisica Mi dice Si poi queste cose Io le uso Appeso E poi Arriva quello di matematica E lo metto a poco Perché il professore di fisica Lo sa bene Però Non è che questo momento Spiega Sto di arena Se no Si fa notte Chiaro? Quindi Attenzione Che quando usate Questi diareni In Fisica Elettromagnetismo Elettrotecnia E compagnia cantante Ci vogliono Delle ipotesi Giustamente Se il professore Ve lo fa Con il teorema Le ipotesi Ci stanno Però ricordate Che poi Se le ipotesi Vengono a mancare Magari il teorema Non è giusto Diciamo La tesi ovviamente Non è vera Perché Non sono soddisfatte Le ipotesi Non riputate Con la tesi Ok Allora Bene Allora Dimostrazione Andiamo Prendiamo Un'epsilon Allora io so Che esiste un indice Mi Tale che Per ogni n Maggiore o uguale Di mi Allora Fn di x Meno f di x In modo assoluto E minore Di x Fratto Due volte Per b Questo è essenziale Se invece di avere Non è Un 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 fatto Tecnico Per far uscire Epsilon Se l'insieme Non fosse Un intervallo Non fosse Illimitato Il teorema Non vale Prendete la funzione 1 su n Su tutto r La funzione 1 su n Quando va a integrare Su tutto r Quando farà Più infinito 1 su r E La lunghezza di r Infinito Va a infinito La funzione 1 su n Converge a 0 Ma gli integrali Vagono tutti infinito E convergono a più infinito Se volessimo considerare Le successioni Quei contengono anche Il valore più infinito Quindi In ogni caso Non convergono a 1 su n Va a 0 Ma su tutto r Invece Su un limitato Si perché 1 su n Per b-a B-a diviso n Tendeva a 0 Allora Adesso Noi che cosa sappiamo? Sappiamo che F con i Appartiene A rima di a b Quindi che cosa sappiamo? Sappiamo che Esistono Fi e psi a scalino Tali che Fi è minore o uguale Di f E minore o uguale Di psi In a b E inoltre Integrale tra e b Di psi di x Meno fi di x E minore di e Sino mezzi Se vi ricordate Una condizione Equivalente All'integrabilità Secondo Riemann Era che per ogni Epsilon La classe Delle fuzioni A scalino Maggioranti Dove sta E quella Delle fuzioni A scalino Minoranti Che fossero La classe Degli integranti Queste funzioni Dove essere Contigue Cioè per la mia Epsilon Ci sta Una funzione Schere Maggiorante Una funzione Schere Minore Antigrante Integrate La differenza Oss-minore di e Epsilon Invece Epsilon Ci mette Epsilon Ok? Va bene Qua Adesso La mia F Ricordatevi Che la F È più Piccola Di F Con i Più Epsilon Fratto B Meno A Ed è più Grande Di F Con i Meno Epsilon Esino Fratto B Meno Due Volte Quindi È Minore Uguale Di Psi Più Epsilon Fratto Due Volte B Menore Ed è Maggiore Uguale Di Phi Meno Epsilon Fratto Due Volte Prima Ok? Quando Io vado A fare A fare Grazie. Quando io vado a fare, allora praticamente prendo Psi 1 uguale a Psi più Epsilon fratto di 2 volte B meno A Poi prendo Psi 1 uguale a Psi meno Epsilon fratto di 2 volte B meno A Queste sono ovviamente due funzioni a scalino, cioè questa è la funzione a scalino di prima aumentata in una costante Questa è la funzione a scalino di prima diminuita in una costante Allora questa qua io ho che la F è compresa tra Psi 1 e Psi 1 Quando vado a fare l'integrale tra A e P di Psi 1 di X meno Psi 1 di X Quanto mi viene? Mi viene l'integrale tra A e P di Psi di X meno Psi di X In D X più l'integrale tra A e P di questo meno questo, ma questo meno questo quanto fa? Epsilon fratto di X meno Psi 1 di X Anzi qua ho sbagliato, cioè non è uno sbaglio perché risultando invece di uscire 2 mettiamoci invece di 2 mettiamoci 4 4 4 4 È giusto per far uscire preciso Y Quindi quando faccio la differenza Y quarti meno meno Y quarti fa Y Epsilon Allora adesso se vi ricordate questo primo integrale com'era? Si è scritto 4 Era più piccolo di Epsilon Epsilon Mezzo Il secondo integrale quanto fa? B meno A e B meno A si semplifica e rimane un altro Epsilon Mezzo In totale fa Epsilon Cosa ho dimostrato? Cosa ho dimostrato? Quindi che? Quindi che? Quindi F è integrabile secondo Y su AB Cioè io che il limite sia integrabile che ne so? Perché io stavolta non so che le funzioni di partenza sono continue Se sono continue il limite è continuo e quindi anche integrabile Ma se le funzioni di partenza sono discontinue e sono solo integrabili Potrebbe succedere che il limite non è integrabile Invece no Il limite Se le funzioni di partenza sono integrabili secondo Y Il limite è integrabile secondo Y Perché? Perché io ho fissato Y Epsilon ho trovato due funzioni da scalino Una maggiorante e una minorante Tale che l'integrale di differenza è meno di X E questa è una condizione Equivalente a dire che la funzione è integrabile secondo Y Se vi ricordate Quando la funzione si può approssimare bene da sopra e da sotto Con la funzione da scalino L'integrale di questo è minore E' chiaro? Quindi tutto questo casino L'abbiamo fatto solo per dimostrare l'integrabilità del limite Una volta dimostrata l'integrabilità del limite Dimostrare che il limite di integrale è uguale all'integrale del limite E' facile Perché? Allora, sia Y maggiore di zero Esiste un N Tale che se N è più grande di N Allora F N di X Meno F di X E' minore di X Fratto B meno A Per ogni X appartenente ad A B E questo implica Che è l'integrale tra A e B Di F con N di X Meno D X Meno l'integrale tra A e B Di F di X In D X In valore assoluto Questo è Uguale all'integrale tra A e B Al valore assoluto dell'integrale tra A e B Di F con N di X Meno F di X In D X Che è minore uguale dell'integrale tra A e B Di F con N di X Meno F di X In D X Che è minore uguale di Epsilon fratto B meno A Per B meno A Che fa Epsilon Fine della riflessione Allora Io cosa devo dimostrare adesso? Per ogni Epsilon Devo trovare un indice N Tale che Quando N è maggiore di N Questa differenza Perché io adesso sto facendo Il limite degli integrali L'integrale di F uguale N Meno l'integrale del limite Deve fare Meno di Epsilon Allora cosa faccio? So che la successione Con mezzo uniforme Quindi l'oggetto lungo in poi Questo è minore di Epsilon su B meno A Per ogni X Vedete quanto è importante Questa convergenza uniforme? Per ogni X Allora io vado a fare questa differenza La differenza di integrale è uguale all'integrale della differenza Il valore assoluto dell'integrale di una funzione è minore uguale dell'integrale della funzione In valore assoluto Se vi ricordate Questo La funzione di integrale è minore uguale Questa costante Nel momento che ho maggiore Questa costante La costante la posso portare fuori Di quale l'integrale di 1 Tra A e B Che fa B meno A Semplifica Epsilon Fine Se qua ci mettergli Epsilon E' pazienza Qua veniva Epsilon per B meno A Quando nelle dimostrazioni Vi viene Epsilon per una costante Sta poco Se deve venire Epsilon E vi viene Epsilon per una costante In quasi tutte le dimostrazioni praticamente Tornate indietro e giustate Diciamo La La costante La costante E trovate Epsilon per B Chiara? Quindi che dice questo teorema? Questo teorema è anche questo di fondamentale importanza Dice che se noi abbiamo una successione di funzioni integrali Quindi facciamo un integrale Facciamo il limite Il limite di integrale è uguale all'integrale del limite Se c'è convergenza lì Volete un esempio? Faccio un altro paio di cose E poi ci fermiamo Scusate ho tirato un po' in lungo Ma Voglio Almeno Esempio Devo fare l'integrale tra 0 e 1 di è la meno x quadro Poi Voi Dice Eh beh ma questo integrale non si fa No no si fa, si fa Questo integrale non si sa scrivere la primitiva per mezzo di funzioni elementari Però che è la meno x quadro E' 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 uguale E' uguale a somma per n che va da 1 a infinito E' 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 W E' 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 La x si muove tra 0 e 1 Quindi meno x quadro andrà tra 0 e meno 1 Tra meno 1 e 0 E in questo intervallo la serie dell'esponenziale converge Unico e meno Quindi cosa posso scrivere? Posso scrivere che l'integrale tra 0 e 1 E la somma per n che va da 0 a più infinito Di meno x quadro alla n Che quando fa? Fa meno 1 alla n per x alla 2n Fratto n fattoriale E qua avviene la magia Cioè cosa succede adesso? Che la serie Cos'è la serie? Il limite delle somme parziali Ma il limite è uniforme Allora la serie la porto fuori Quindi questo è Somma per n che va da 0 a più infinito E l'integrale tra 0 e 1 Di meno 1 alla n X alla 2n Fratto n fattoriale De x Uguale Somma per n che va da 0 a infinito Meno 1 alla n Quando fa fratto n fattoriale Questo lo posso portare fuori perché non dipende da x Quando fa l'integrale di x alla 2n Fa x alla 2n più 1 fratto 2n più 1 Valutato tra 1 e 0 fa 1 fratto 2n più 1 Questa serie è una serie che converge molto velocemente Quindi se volete stimare questo integrale Iscrivete 10 Compiuto e fate calcolare 10 termini della serie Dopodiché avete 4 integrale A 10 siamo a 10 fattoriale che fa E poi c'è per 21 Quindi stiamo A 1 su 70 milioni Il successivo è Più o meno 1 su 1 miliardo Sulla 9 decimale Se calcolate i primi 11 termini della serie Per il computer avete calcolato l'integrale Fino alla 9 a 5 decimale E' chiaro? Quindi E' chiaro che è un'approssimazione Non riusciamo a scrivere il valore esatto Se non per serie Ma dal punto di vista Dell'approssimazione Se io posso calcolare Sto integrale fino alla 9 decimale Beh Ma può Va bene L'italiano va bene Non va Chiaro? Ok Bene Quindi Sto integrale Adesso Vabbè Adesso lo diciamo dopo Faccio solo un riepito Che abbiamo visto? Abbiamo visto che La convergenza puntuale Di per sì Va bene Nel senso che è facile da calcolare Mi permette di identificare il limite Cioè io faccio la successione Prendo x con un parametro Faccio il limite La funzione Limite La trovo Però Non mi basta A far capire Se la funzione limite È continua E se fai il passaggio Al limite Sottissima integrale Uno dice Vabbè Se tu la funzione limite La calcoli esplicemente La guardi in faccia Vedi se è continua o no Qual è il problema? Bene È però Che se vai Il passaggio Limite di sottissima integrale Non lo vedo subito Vi ricordate quelle funzioni Che convergevano a zero Proprio a zero In tutti i punti Ma gli integrali Se ne andavano a infinito A uno A qualche altra cosa Quindi là Non lo vedo affatto Non si vede bene Allora E comunque Io vorrei sapere A priori Se una successione Di funzioni continue Mi dà un limite Che è continuo Allora Mi servono delle ipotesi In più Per esempio La convergenza di Fur La convergenza di Fur Mi assicura tutte queste cose Tu hai le funzioni continue Fai il limite Il limite è continuo Tu hai Le funzioni integrablie Fai il limite Il limite è integrabile Il limite è integrabile E' Il limite è integrabile Il limite è integrabile In merita Per il passaggio Al limite Sottissima integrale Quest'ipotesi È ben sovrabbondante Cioè Si potrebbe fare Un altro teorema Che si chiama Teorema La convergenza dominata Di Lebeck Che dice Nel nostro caso Divente Tu hai le funzioni Integrabili secondorino Convergono a F Puntualmente Inoltre Tutte le funzioni Sono limitate Per esempio Dalla costante Su un intervallo Oppure Non serve una costante Basta una funzione Il cui integrale Una funzione positiva Il cui integrale Sia finita Passi al limite Questo è ben di meno Che dire La convergente uniforme Per esempio Tutte le funzioni Sono meno o uguali Di 3 Su al limite Ok Io che ne so Se la successione Converge uniforme No In quel caso Posso lo stesso dire Che l'integrale del limite Qua la limite di integrale Però Devo prima Supporre che il limite Sia integrabile secondo Riemann Perché Cosa può succedere In quel caso Che il limite Non è integrabile secondo Riemann Ma è un vero problema? No In quel caso Il problema sta nel fatto Che l'integrabilità Secondo Riemann Non è una definizione Soddisfacente di integrazione Bisogna estendere L'integrabilità A una classe di funzioni Più amiche Si chiama Integrale di Rabbeck La teoria Dell'integrale di Rabbeck Fino all'anno scorso Che avevamo 3 credit in più Diciamo Vabbè Avevamo 30 credit Per Di 3 esami di analisi La facevo E qua Il 24 Non ci sta Quindi La devo Togliere Però Quello che vi voglio far capire È che Questa Convergenza uniforme È sufficiente Ma non è necessaria Basta pure di meno Cioè normalmente L'integrale Ci basta Basta poco Ma non La sola Convergenza puntuale Chiaro? Perché Gli esempi L'abbiamo visto Certo Con la convergenza puntuale Le funzioni Vanno a 0 E l'integrale Vanno a meno Se vi ricordate L'esempio Le funzioni Stanno sul limitato E sono tutte Minore o quadri Una costante E Le funzioni Vanno a 0 Non c'è nessun'area Che può scappare Perché tu Come facevi a mandare L'area infinita? Stringerevi di qua E aumentare l'altezza Stringerevi la base E aumentare l'altezza L'area Rimaneva Grande No? Tu prova C'è un tubetto Di Maionese Prova a schiacciarla a 0 E' quello Di schizzare dall'altra parte Se il volume è costante Tu lo schiacci a 0 E quello Deve Schizzare dall'altra parte Se invece Tu sai che lo puoi schiacciare a 0 Allora che vuol dire? Che il volume Se ne va a 0 In questo caso Questo è Il quadro Il quadro non è completo Dovremmo parlare Dovremmo poi parlare Di passaggio al limite Sotto i segni di derivata Ma questo non lo facciamo oggi Perché oggi dobbiamo fare Un altro teorema importante Che è il teorema di Picard Dobbiamo Ancora Per applicare il teorema di Picard Per far vedere Che C0 È uno spazio metrico completo Ma praticamente È il teorema Che abbiamo già dimostrato Poi Vediamo Che è un corollare Banale Di questo teorema Comunque Ho voluto piantare Un paio di paletti Fondamentali I paletti fondamentali Sono Se ho la convergenza uniforme Il limite di 3.0 è continuo Posso passare Sotto i segni di integrazione Se ho la convergenza puntuale No Ok Adesso ci vediamo